L'abbiamo ascoltata come tutti i candidati in questi giorni, ora è il momento della parola ai cittadini. Come sta vivendo queste ore? Molto bene, tra l'altro sto andando in giro, tanti si avvicinano, fanno un grande in bocca al lupo. Io tra l'altro ho vissuto bene perché ho fatto una bella campagna elettorale parlando dei temi, dei problemi, del rilancio della città. Ho visto un grande consenso attorno alla nostra proposta, ce l'ho messa tutta e mi sono messa a disposizione dei cittadini. C'è qualche rammarico, qualcosa che voleva dire, che non ha detto in campagna elettorale? Qualcosa che secondo lei andava detto e che non ha avuto il tempo di dire? No, ho detto tutto quanto, quello che volevo dire alla città, sui programmi e sui progetti. Mi rammarico soltanto che con i miei avversari si sia parlato più di fatti personali e meno di temi della città. Avrei preferito una campagna elettorale che si occupava più del futuro di Sciacca e non delle questioni personali di qualcuno. I suoi avversari hanno puntato molto sul fatto che lei non è di Sciacca, tra le altre cose non vota Sciacca. In che cosa lei si sente esalcente? Questa è un po' la barzelletta metropolitana. Considerato che io tra l'altro a Sciacca non solo, la mia famiglia è qui da 500 anni, per cui forse prima di qualcun altro. Ho un legame fortissimo con Sciacca. Ho fatto due volte il sindaco di Sciacca, quello che dimenticano i miei competitor. Ho fatto due volte il sindaco di Sciacca ed ero la stessa persona. I cittadini hanno creduto al cambiamento e hanno votato per me, dopodiché mi hanno anche rieletto. E sono l'unico a essere stato rieletto. Questo secondo me sfugge ai miei competitor e credo che debbano invece prestarci molta attenzione. I cittadini di Sciacca sono molto attenti alla qualità della proposta e quello fa la differenza. Non le chiediamo ovviamente previsioni per scaramanzia, anche però un augurio. Si sente di dire qualcosa ai cittadini e se accensi, al di là di come andrà la competizione? Io auguro alla città tutto il meglio. Se sarò io a guidare l'amministrazione, cercherò di sollevare la città. Caso contrario, spero che chiunque si assuma le responsabilità, perché una città così degradata, così abbandonata non l'avevo mai vista e credo che la città non lo meriti. Grazie.